In momenti di crisi e di scarsa liquidità per il settore delle imprese, diventa fondamentale poter disporre di finanziamenti dedicati allo sviluppo economico e produttivo. Questo è il compito di FIN Piemonte, braccio operativo della Regione, che ha interessato oltre 5.000 beneficiari nel corso dell'ultimo anno, per un totale di 350 milioni di euro distribuiti in tutto il territorio regionale. Le province che hanno goduto del maggior numero di fondi sono quelle di Torino, Cuneo e Alessandria. Gli investimenti sono stati indirizzati verso la ricerca e l'innovazione, ma anche l'accesso al credito è stato funzionale al settore delle imprese. Diversi gli interventi anche a sostegno dell'artigianato e del commercio, perché la filiera produttiva del Piemonte riguarda anche questi determinanti settori. Ai nostri microfoni il Presidente di FIN Piemonte Massimo Feira e l'Assessore regionale Massimo Giordano. Presidente Feira, carta di identità di FIN Piemonte è legata soprattutto a tutti questi contributi alle imprese piemontesi? Sì, soprattutto è un rendiconto dell'attività svolta nel corso del 2011, un anno importante in una situazione congenturale difficile, che comunque ha visto FIN Piemonte erogare circa 350 milioni di euro a favore di circa 6.000 beneficiari. Quindi direi un risultato positivo in un momento difficile. Tra l'altro c'è uniformità di questi contributi per le varie province piemontesi o c'è qualche provincia migliore rispetto all'altra? Anche questo ha un trend storico. La provincia di Torino sicuramente è per la densità di imprese rispetto al numero di abitanti e per il numero di imprese in termini assoluti la fa ancora da padrone. Nel corso del 2011 abbiamo continuato con l'attività di presenza sul territorio regionale e questo ci ha consentito di migliorare le performance nelle altre regioni, però la differenza tra la provincia di Torino e le altre province è ancora presente. Quali sono gli asset più sfruttati? Occupazione, innovazione? Tutte le misure hanno come obiettivo il miglioramento dal punto di vista dell'innovazione e degli investimenti da parte delle imprese. Quello che sicuramente nel corso dell'anno ha avuto una maggiore attenzione è stato le misure a favore dell'accesso al credito. Abbiamo fin dal mese di luglio ravvisato un rallentamento, una difficoltà dell'impresa ad accedere al credito e poi il dato di rendicontazione lo ha confermato. Ultima domanda, sguardo verso il futuro 2012. Quali saranno le attività che metterà in essere Finpiemonte? Finpiemonte come strumento della regione Piemonte è il veicolo che la regione adotta per rendere operative le proprie misure. Quindi continueremo sul piano straordinario per l'occupazione, il piano sulla competitività. Oggi Banca d'Italia pubblica un dato che dovrebbe in qualche modo preoccuparci perché tre imprese su quattro vedono in maniera pessimistica il futuro. Più della metà delle imprese non vogliono investire. Questo credo che ci debba in qualche modo interessare e coinvolgere per la prospettiva. Credo che noi dobbiamo fare tutto quanto è in nostro potere affinché alla crisi non si coniughi anche un pessimismo psicologico che diventerrebbe veramente dell'etereo per il futuro della nostra regione. Noi cerchiamo di aiutare le imprese avendo in mente un disegno strategico che è quello di sostenere la produzione, il manifatturiero, l'industria che sono gli unici settori che ci possono portare la speranza di reggere la competizione globale. Se non si produce ricchezza non si può neanche pensare di distribuirla. E oltre alla qualità perché il nostro piano strategico è un piano riconosciuto come adeguato e di qualità perché individuo è una vera e propria politica industriale c'è anche la quantità, quantità nel senso di quantità di aziende che vengono aiutate. Si parla di quasi 6 mila, si parla di 350 milioni di euro circa di aiuti e per cui la speranza è che queste imprese possano essere veramente sostenute a passare un momento che è oggettivamente difficile e che lascia i segni. A livello di contribuzione, ha detto anche lei in conferenza stampa, c'è maggiore attenzione da parte magari della provincia di Torino, magari gli imprenditori dell'area nord-orientale sono un pochino, come dire, più timidi forse? Più timidi, dice bene. I dati dimostrano che gran parte delle risorse vanno a Cuneo, la provincia di Cuneo, la provincia di Torino, ma noi conosciamo anche i motivi per cui avviene questo perché il Piemonte orientale, gli imprenditori, gli artigiani del Piemonte orientale culturalmente sono spinti ad accedere meno a questi aiuti e queste risorse. Questo è un peccato perché in realtà e soprattutto in un momento così difficile sono aiuti che spesso possono anche risultare decisivi. Allora guardiamolo questo Piemonte orientale, Biella, Vercelli, Novara, Verbanio, Cuseosola, di che cosa è che secondo lei hanno più bisogno, diciamo così, questi imprenditori? Questi imprenditori oggi hanno bisogno di un po' di tutto, di essere sostenuti ad accedere al credito perché c'è una stretta creditizia, di essere aiutati ad andare a intercettare la crescita che c'è nei mercati esteri, per cui dal nostro punto di vista le priorità nei prossimi mesi saranno internazionalizzazione, sostegno all'accesso al credito, quindi ai capitali e ai giovani con i nostri progetti del piano giovani che vedono la luce in questi giorni, per cui per noi le priorità sono queste.